E' stato convocato per lunedì 7 ottobre alle 10.30 a Salerno l'incontro con il prefetto Francesco Russo per discutere del gravoso problema Battipaglia in Gendi presso siti connessi al ciclo dei rifiuti. Al tavolo sarà presente anche Massimo Sorvillo come rappresentante della ConfCommercio Regione Campania che sulla pagina Facebook Battipaglia dice no ha postato un suo pensiero. Sarò al tavolo invitato dal prefetto sperando che le nostre richieste vengano prese seriamente in considerazione, terrò informato il comitato e tutti i cittadini dell'esito della riunione. Intanto al post sono giunti i primi commenti. L'ultimo ruogo alla MGM a distanza di diversi giorni è ancora attivo ed ancora si chiede può riferire al prefetto che fuoriesce ancora fumo puzzolente di pneumatici incendiati e che in zona ci sono le scuole? Chi deve provvedere? Grazie a tutti.